In vista del nuovo anno ormai alle porte, ad interrogarsi sul futuro della provincia di Belluno, che sempre più appare minacciata dal fenomeno dello spopolamento, è il presidente di Confcommercio Belluno, Paolo Doglioni. Gli auspici sono che questa provincia possa avere una governance locale in tutte le declinazioni. In buona sostanza, vivere in montagna non è vivere in pianura e noi abbiamo un DNA che è adatto per poter governare questo territorio. Io richiamo l'attenzione nei termini in cui il territorio non può più essere depauperato di funzioni, di uffici e di centri direzionali. Non possiamo essere tributari di altri territori, dobbiamo tenercelo qui. Siamo in pochi? Sì, siamo in pochi, ma abbiamo bisogno di lavorare nel nostro territorio per i nostri servizi e con le nostre strutture. Non è mancata poi da parte di Doglioni un'attenzione ai prossimi eventi di notevole richiamo turistico che interesseranno la provincia, ossia i mondiali di Cortina 2021 e le Olimpiadi del 2026. Solamente qui possiamo capire quali sono le necessità della montagna e dare il meglio di noi per poter promuovere questo territorio in tutto il mondo. Grazie. Grazie.